Fuori luogo, 790 km di 1500. Siamo a Danghiari, vicino ad Urbino. Questo è il percorso che abbiamo fatto fino ad adesso. Comincia a intravedersi la scritta che stiamo facendo. La teoria secondo la quale, perseguendo il proprio interesse personale, si giova in qualche modo a tutta la società è falsa. Ha dimostrato tutta la sua limitatezza e ci ha condotto a questo mondo del tutti contro tutti. Mondo in cui pochi potenti approfittano delle spaccature sociali, dell'insicurezza, della mancanza di coesione e della solitudine per portare avanti il loro regno di sfruttamento editi anni ed è senza che nessuno abbia il coraggio di alzare la testa. Da solo che cosa vorresti mai fare? Vuoi combattere per un mondo migliore in un contesto sociale nel quale ciascuno pensa al suo angoletto personale e basta? Vuoi fare il gioco degli altri che mentre tu ti impegni per trovare alternative a questo sistema di speculazione, gli altri invece vanno avanti, giocando secondo le regole di questo sistema? La verità è che nessuno sta andando veramente avanti. Questo sistema prima o tardi collasserà, anzi lo sta già facendo e noi siamo mostruosamente impreparati sia individualmente che socialmente ad affrontare questa crisi. Cambiarlo dall'interno raggiungendo prima posti di potere è un intento più che lodevole ma assolutamente fallace e anche questo è dimostrato da quanto sta accadendo. I vecchi sistemi che facevano delle manifestazioni di piazza e della coesione sociale il cavallo di battaglia sembrano inadeguati, lo sono stati, ma non funzionano sempre tutti. Un'interpretazione più corretta è che questa crisi è nuova, assolutamente sconosciuta. Non sappiamo a dove ci porterà, oppure pensiamo di saperlo e supponiamo di poter salvare sempre il nostro angoletto personale e soprattutto i vecchi sistemi non funzionano più, ce ne sono di nuovi che pur avendo forme similari come ad esempio la riscoperta della coscienza di uno stato sociale comune a molte persone che potrebbero condividere interessi e obiettivi, non solo possono ma devono essere tentati. Chi la pensa così non è una minoranza, è una maggioranza. La maggioranza. Ma ciascuno che fa parte di questa maggioranza pensa che non basta avere consapevolezza, questo è giusto. Che le variazioni che si possono tentare non serviranno a nulla contro mostre di potere di oggi. Questo invece è falso e che da soli non si può fare nulla. È falso perché anche se tutti si lamentano allo stesso modo sulle stesse cose non si va da nessuna parte perché ci si limita all'espressione e non all'azione. Davvero penso che averci allettato con l'individualismo, nascondendoci il suo retrogrusto di solitudine sia stata una mossa meravigliosa da parte del potere per renderci inoffensivi. Anzi, capita anche che chi predica il cambiamento lo faccia orrendamente per proprio tornaconto personale. Dare ragione sulle lamentele a chi si lamenta ma si sente con le mani legate è una straordinaria operazione di marketing, molto efficace. Grazie. Grazie.